Ciao a tutti del tuo, sono Pio e benvenuti in questo nuovo video della Tabicraft Signori, siamo qui, tornati sulla Tabicraft con un grosso problema Lo scorso episodio è finito con un piccolo imprevisto Diciamo che è scomparso il nostro Jawi e io non so assolutamente dove sia finito Quindi oggi andremo a cercare Jawi perché qui da qualche parte dovrà pure stare Perché veramente rischiamo quindi che... non lo so ragazzi Jawi è sempre stato con noi dall'inizio della serie È la mascotte del canale da quando avevo 300 iscritti 300 iscritti ragazzi, 250.000, anzi 260.000 iscritti fa Quindi ragazzi non possiamo permetterci di perderlo per nessun motivo al mondo Quindi andiamolo a cercare Mi raccomando lasciate un bel like, un commento se volete che ritroviamo Jawi Magari iscrivetevi in descrizione se voi sapete dove si trova Allora ragazzi io non so veramente dove andare a cercare perché sul serio c'è dove potrebbe essere Jawi allora io l'ultima volta che l'ho visto era qui Era da queste parti ne sono sicura Era qui vicino da qualche parte Ma dove? Dove? Dov'è? Non so veramente come fare a trovarlo Cioè non... il problema è che anche chiamandolo Cioè non... come faccio a trovare un maledetto lupo in questo... No sono stati loro, non è stato Jawi Pensavo fosse stato Jawi No io non penso che lo troveremmo ragazzi Credo che... credo che sia scappato Ho paura veramente che sia scappato Il fatto è che non so perché avrebbe dovuto scappare Nel senso non gli ho fatto nulla Perché... perché dovrebbe andare via da me? Non... non gli ho fatto davvero niente Non avrebbe motivo di... di... di farlo Vabbè intanto diamo fuoco a queste Quindi così ci prendiamo i loro... i loro buonissimi drop Oh! Abbiamo già un po' di carne Com'è possibile che abbiamo tutta sta carne qua dentro? Vabbè non è importante adesso Io devo trovare Jawi Devo riuscire a trovarlo ragazzi Per me è fondamentale che ci fate voi qua fuori E che non riesco a ricordare l'ultima volta dove l'ho lasciato Nel senso che era qui da qualche parte Ma... non riesco bene a ricordare dove Cioè veramente non... non lo so Ho bisogno di... di... di trovarlo So che è da qualche parte Sapete che mi sta avvenendo un dubbio? Se io adesso vado sul canale di Anna Perché mi avevate detto che aveva fatto qualcosa Poi me ne sono dimenticata però di andare a controllare Quindi non è che... eccolo Lo sapevo Ho ucciso Jawi? Seriamente? Come le viene di uccidere il... Il mio Jawi? Cosa le salta in mente? Come le... Cioè perché? Per quale motivo? No ti prego Dov'è? Dov'è il Jawi? Dov'è? Ma non l'ha ucciso sul serio? Non l'ha ucciso? Cioè... No vabbè Anna Non ci posso credere Non ci voglio credere ragazzi Ve lo giuro Non voglio crederci Io non voglio crederci Spero che stia bene e che non gli sia successo niente Lo spero davvero tanto Dov'è cavolo me l'ha messo Jawi adesso? Non può averlo portato lontano Alla fine non poteva spostarsi Cioè mi ha portato via Jawi Non posso sapere dove me l'ha messo Non l'ha... Non l'ha fatto vedere nel video Io non posso saperlo Cioè Jawi è andato via Ragazzi vi rendete conto di quello che ha fatto? Questo è un grandissimo oltraggio Un enorme oltraggio Jawi è la mia mascotte È come se qualcuno le toccasse Ciuchino E io Ciuchino non gliel'ho ucciso Nascosto in un punto introvabile Che non ho fatto vedere a nessuno Nel mio video si vedeva dove era Ciuchino Così che lei potesse andare a cercarlo E io invece non posso trovare più il mio Jawi Chissà dove è finito Chissà lei dove me l'ha portato Va bene ragazzi Qui ci vuole una vendetta di quelle serie Quindi nei commenti ragazzi Commentate e scrivetemi Quale secondo voi dovrà essere la vendetta Per quello che mi ha fatto Mi raccomando siate cattivi E la vendetta più bella L'attuerò nel prossimo video Comunque per questo episodio Volevo fare una cosa un po' particolare Ovvero visto che Anna mi ha fatto questo gatto nero Da strega Volevo trasformarlo in un monumento Alla mia gattina Minou Che non tutti voi conoscete Però è la gatta che ho a Foggia Qui tengo tantissimo Le voglio un sacco bene E quindi mi sembrava carina l'idea Di farle una statua nella vanilla E per farla ovviamente Sfrutterò questa cosa Che ha fatto Anna Che è un po' bruttina Cioè poteva farla meglio Però vabbè Che blocchi ha usato? Ha usato la concrete qui? No ha usato la terracotta Ok io invece ho utilizzato Ho preso la black La white concrete E la terracotta normale Perché mi servirà quella Allora innanzitutto Sostituiamo tutto quanto il corpo Perché il corpo della mia Minou È tutto bianco È tutto 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 bianco Dovete sapere che lei Ha dei colori bellissimi ragazzi Lei è veramente veramente bella Come gattina Io la adoro È dolcissima Bellissima È fichissima Ed è anche altissima Purissima e levissima Però vabbè Non è quello che volevo dirvi Però fidatevi La mia gattina è speciale È davvero speciale Poi ha un pezzetto di muso bianco Quindi adesso le facciamo Un pezzettino bianco di muso Perché è soltanto un pezzo Tipo qua sotto Di là è nero Quindi è giusto Solo che poi ha Un lato di faccia Tutto marroncino Ovvero questo lato qua Tutto questo è un po' Marrone E anche qua sopra Abbiamo una parte nera E una parte che è tutta marroncina Quindi questo qua Tutto più scuro Anche se questo è un nero diverso Quindi in realtà io dovrei utilizzare Il suo nero Perché altrimenti poi devo Che palle Anna potete usare la concreta Io mi sono preparata quella Vabbè comunque A parte questo Di qua ci va messa La terracotta Di questo colore Perché appunto È fatta così Anche qua C'è tutta la terracotta così Cioè c'è tutta la parte arancione Non la terracotta E l'orecchio È metà Di questo colore qua Mentre gli occhi Sono sicura Che siano neri Però neri Proprio questo nero Così Oh Mi sa che ci è nato Uno zombie dentro Vabbè comunque In realtà Gli occhi tipo verdi O qualcosa del genere Però vabbè Non fa niente E noi glieli facciamo neri Ah no È lì sotto lo zombie Ehi amico Come hai fatto a nascere Perché hai una sacca Di inchiostro in mano Vabbè Non importa Forse l'ho lasciata prima Mentre craftavo Sta roba qua E quindi ora Non mi resta che sostituire Con il bianco Tutte le parti Che stanno qua sotto Perché poi per il resto La mia gattina È tutta bianca Cioè Ha delle macchie di colore Sulla schiena Marroni e nere Che magari Adesso vediamo Se riusciamo a riprodurre Oddio Ci assomiglia un sacco Sembra davvero La mia minù Forse gli occhi Forse gli occhi Li avrei fatti verdi Perché lei ha comunque Le pupille verdi Non lo so sinceramente Però mi piace Devo sostituire quello Perché quello È terracotta Ci assomiglia un sacco Sinceramente ragazzi Vi dico la verità È veramente Veramente simile A com'è La mia bellissima gattina Nella realtà Ora Dobbiamo farla Tutta bianca E poi fargli Le strisce Sul corpo Se mi sbaglio Si le ha tutte Sulla schiena Su questo lato qua Però quello È da fare Credo Off camera Perché non è semplice Comunque Io sto ricopiando Da una foto Che avevo come immagine Di copertina Su facebook Della mia gattina Quindi diciamo che È un po' complicato Più che altro Devo fare Altra white concrete Però sì Adesso devo farla Tutta quanta bianca E poi su un lato Metterci le macchiette Quindi questa È la mia gattina Ragazzi Guardate quanto è bella È molto molto più bello Così sinceramente Il gatto Mi piace di più Perché mi rappresenta di più E vorrei farci qualcosa Cioè Non voglio lasciare Solo questa statua Così Voglio Voglio farci qualcosa Perché per me La mia gattina È molto importante Tanto 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 importante Le voglio tanto bene E sono contenta Perché ci assomiglia Sinceramente Ci assomiglia molto Andate su Instagram Magari Trovate sicuramente Una mia foto con lei Mi chiamo Clocciola Chiociola Charlotte Moon Trattino basso Su Instagram Andate a cercare Le foto con la mia gattina E vedrete che Ci assomiglia comunque Il problema principale Però non l'abbiamo risolto Ovvero Che Jawi È sparito E noi non sappiamo Assolutamente Come trovarlo Ragazzi Perché Anna non si sa Dove l'ha portato Allora Quello che è sicuro È che non può essere Tanto distante Perché lei Non poteva Farsi seguire Da Jawi Essendo appunto Che Jawi È mio E non suo Quindi Jawi Non l'avrebbe seguita Non si poteva nemmeno alzare Jawi Era seduto Quindi teoricamente Dovrebbe stare qui sotto Da qualche parte Però È difficile capire Come trovarlo Qui sotto Da qualche parte Quindi Non sarà semplice E ovviamente Abbiamo bisogno Di una vendetta Esemplare Quindi ragazzi Dovete Sbizzarrirvi Nei commenti Dovete trovare La vendetta Più vendetta Che ci sia Deve essere Cattiva Terribile Deve essere qualcosa Che lei Non potrà mai Dimenticarsi Quindi vi voglio Veramente Veramente Cattivi Ragazzi Quindi mi raccomando Mi fido Davvero Tanto di voi Mi fido Tantissimo Di voi Anche se Mi viene Un dubbio Anna Sto facendo Tutte queste Cattiverie Tra virgolette A parte che Lei non sa Che noi siamo Dei lupimannari Credo che non lo sappia E che quindi La notte Ci trasformiamo Quindi potremmo Farle anche Qualche scherzetto Di notte Alla fine Noi abbiamo Costruito Un laboratorio Che mi permettesse Di star tranquilla La notte Quando mi trasformo Però il laboratorio In questo momento È rotto Se vi ricordate bene Quindi Potremmo divertirci In veste di lupimannari Signori Potremmo divertirci Moltissimo Poi tutti questi Troll che mi fa È strano È come se ce l'avessi Con me E conosco Un'altra persona Che ce l'ha con me Il signor V Voldemort Potrebbero essere collegati Vabbè Comunque Ora Mi sto dilungando Non importa Quello che devo pensare adesso È finire la mia diagonale Arricchire tutto il mio villaggio E Per il resto Poi ce la vedremo Quindi ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate tanti like Tanti commenti Andatevi a vedere Il primo video di oggi Che era un just dance Con muro e lollo Mi raccomando È molto importante Riccio il prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti